ore 7 e 10 pronto per fare colazione andiamo a bussare a mauro baffa baffa a colazione va già è fatta che mi sono alzato stamattina e 6 non c'era un bar aperto ma qui tanno grazie ai 7 ai 7 e 10 ho fatto guarda ci sta tutto tipo prende due volte il cappuccino che sono tutti i tipi dei cornetto di cioccolatini dei salatini tutto quello che vuoi va giù va sbrighati nicchigiossino.it salve